il moto armonico si incontra sempre attorno a noi ed è collegato come vedremo alle oscillazioni o vibrazioni mentre ti parlo vibrano oscillano le mie corde vocali esse fanno vibrare l'aria che fa vibrare la membrana del microfono che uso in questo momento il segnale raccolto dal computer viene elaborato e spedito da un'antenna collegata ad un circuito oscillante l'antenna emette onde elettromagnetiche altre oscillazioni capitate dal tuo computer quindi il segnale viene inviato al tuo altoparlante che vibra e a sua volta fa vibrare l'aria che fa vibrare la membrana del tuo orecchio e miracolosamente mi senti come vedi attorno a noi c'è un universo in perenne oscillazione la comprensione di questo moto elementare ci permetterà quindi di aprire una finestra sul mondo reale inizieremo con il moto armonico semplice poi ci occuperemo di quello composto nei primi due video ci occuperemo solo della descrizione del moto nel terzo e spero ultimo video vedremo invece i sistemi reali soggetti a forze che producono tali moti un moto armonico semplice è un moto rettilineo periodico ed è confinato tra due estremità di un segmento di lunghezza l quindi abbiamo questo punto materiale che è costretto ad andare avanti e indietro tra questi due punti b e c per descrivere il moto di questo punto materiale come al solito introduciamo un sistema di coordinate ed in questa situazione piuttosto semplice è sufficiente un solo asse asse x che disponiamo lungo questa retta per esempio in questa direzione e l'origine del nostro asse lo scegliamo proprio nel punto medio di questo segmento sul quale avviene il moto ma se l'origine non vi piace in questa posizione naturalmente potete portarla da qualche altra parte per il momento la lasciamo qui alla fine vedremo un esempio un esercizio in cui l'origine non si trova qui ma da un'altra parte tutto ciò non basta per far sì che il moto sia armonico semplice è necessaria un'ulteriore condizione cioè che l'equazione oraria sia descritta da questa relazione qui notate la presenza di tre grandezze a omega fi e tra un po vedremo di che cosa si tratta per il momento notiamo la presenza di questa funzione goniometrica il coseno ma la sua presenza non è fondamentale nel senso che al posto del coseno è possibile avere il seno ed il moto rimane ancora un moto armonico semplice un'ultima importante precisazione ho immaginato che il moto avvenga su questo segmento che ha questa direzione in realtà il moto può avvenire in una qualsiasi direzione cioè questo segmento può essere orientato in una qualsiasi direzione cioè il punto materiale non è costretto a muoversi solo in orizzontale per determinare un moto armonico semplice ma può muoversi in una qualsiasi direzione e vediamo qual è il significato di quelle tre grandezze qui vediamo lo stesso moto che abbiamo visto ma disposto verticalmente quindi il punto materiale p si sposta con quelle caratteristiche andando su e giù la grandezza fisica a si chiama ampiezza e il suo significato è che il suo modulo coincide con l mezzi l abbiamo visto è la lunghezza del segmento sul quale avviene il moto le sue dimensioni fisiche sono ovviamente i metri per quanto riguarda l'argomento dentro la parentesi prende il nome di fase e si misura in radianti fi prende il nome di fase a t uguale a 0 o fase iniziale se nella fase mettete 0 al posto di t avete appunto fi per quanto riguarda omega prende il nome di pulsazione o frequenza angolare si misura in radianti su secondi questa lettera l'abbiamo già incontrata a proposito del moto circolare uniforme l'avevamo chiamata in quella occasione velocità angolare qui non c'è nessun moto circolare uniforme ma vedremo alla fine che questo moto è imparentato a quello circolare uniforme per il momento questa grandezza fisica per il momento questa grandezza fisica chiamiamola pulsazione o frequenza angolare il punto materiale che va su e giù e che determina il moto armonico prende il nome di oscillatore armonico questo è un moto periodico e il periodo è t determinato da 2 pi greco fratto la pulsazione come si fa a dimostrare che questo moto è un moto periodico se al posto di t ci metto t più t per definizione di funzione periodica devo ottenere lo stesso valore della funzione risolvo questa equazione goniometrica e trovo che t è proprio quello che ho detto prima se c'è un periodo allora è possibile definire una frequenza e la frequenza come al solito è l'inverso del periodo e questo è un possibile diagramma orario di un moto armonico per esempio questo qui è quello che si ha per a che vale 10 metri omega è questo valore e fi in questo particolare esempio vale 0 quindi abbiamo un diagramma orario che è una cosinusoide a t uguale 0 il punto materiale si trova qui e all'aumentare di t comincia a scendere scendere raggiunge il valore meno 10 poi risale sull'asse x il moto vi ricordo avviene sempre su quest'asse il periodo di questo moto abbiamo visto questo qui e in questo caso coincide con 2,86 secondi che cos'è il periodo quando trascorre un intervallo di tempo pari a t il punto materiale si ritrova nella medesima posizione per esempio se siete qui e aspettate un intervallo di tempo pari a t il punto materiale ritorna nella stessa posizione t è anche il tempo impiegato dal punto materiale per compiere un'oscillazione completa il punto materiale parte da qui va giù ritorna su e quindi ha impiegato un intervallo di tempo pari proprio al periodo il periodo è anche definito come l'intervallo di tempo diviso il numero di oscillazioni vediamo un po' se riusciamo a determinarlo a partire da questo grafico se volessimo determinarlo dovremmo sapere quanto vale l'istante di tempo qui quanto vale quest'altro istante di tempo e fare la differenza tra questo e quest'altro ma purtroppo questi numeri sono difficili da leggere qui abbiamo questo punto e il grafico ci dice che vale 5 secondi prendiamo per buono che questo delta t sia proprio 5 secondi come facciamo a determinare il periodo a partire da questa informazione proviamo a vedere quante sono le oscillazioni complete prodotte dal nostro oscillatore una e beh non fa in tempo farne due se fossero state due avrei dovuto fare 5 diviso 2 fino a qui è una da qui a qui è una mezza oscillazione e questa qui rappresenta un quarto di oscillazione quindi da qui a qui abbiamo tre quarti di oscillazione in totale in questo intervallo di tempo abbiamo una oscillazione e tre quarti quindi uno più tre quarti fa 1,75 e allora il periodo è proprio 5 diviso 1,75 che è 2,86 secondi quello che abbiamo trovato prima ma conoscendo omega la frequenza ci dice quante oscillazioni il nostro oscillatore compie al secondo quella che vediamo a sinistra è ancora lo stesso diagramma che abbiamo visto prima e qui vediamo la stessa equazione oraria abbiamo visto nell'esempio precedente che fi vale 0 quello che voglio farvi notare è che questa funzione goniometrica può essere anche scritta in questo modo cioè al posto del coseno appare il seno però devo aggiustare, devo mettere al posto di fi qualcos'altro e questo non accade soltanto in questo esempio ogni volta che voi avete una espressione di coseno di qualcosa potete sempre trasformarla in un seno ancora una volta chi conosce le funzioni trigonometriche sa qual è la relazione tra coseno e seno quindi posso usare una delle due funzioni goniometriche senza alterare il diagramma orario ci viene detto di scrivere l'equazione del moto armonico semplice sapendo che a vale 10 metri omega vale 2,2 radianti al secondo e a t uguale a 0 il punto materiale si trova in questa posizione allora se mi piace la funzione coseno scrivo l'equazione oraria e l'incognita è la fi allora uso l'informazione che mi viene data a t uguale a 0 metto 0 qui e so che in corrispondenza di questo 0 la x vale questa quantità e mi ritrovo questa equazione in cui l'incognita è fi allora posso scrivere che coseno di fi è x0 diviso a sostituisco i numeri e trovo questa banale equazione trigonometrica in cui fi si trova facendo l'arco seno di un mezzo e quindi trovo che fi è pi greco terzi se avessi voluto usare la funzione seno avrei continuato a lavorare nello stesso modo quindi uso di nuovo questa informazione scrivo questa equazione l'incognita ancora fi soltanto che adesso per ricavarla devo ricorrere alla funzione arco seno seno alla meno 1 per ricavare questo nuovo valore di fi allora notate che se uso coseno fi vale pi greco terzi se uso seno fi vale pi greco sesti a partire da questa relazione è possibile determinare istante per istante la velocità con cui si sposta il nostro punto materiale e ciò si fa andando a determinare la derivata rispetto al tempo appunto del vettore posizione e si trova questa espressione questa funzione oscilla tra meno 1 e 1 per cui il valore massimo della velocità è valore assoluto di omega per e il valore più piccolo invece è meno omega per a in questa equazione questa quantità qui svolge il ruolo di ampiezza della velocità e se sono interessato all'accelerazione prendo la derivata rispetto al tempo della velocità e seguo i calcoli e trovo quest'altra espressione ancora una volta il coseno mi da un numero compresso tra meno uno e uno e l'accelerazione può assumere come valore massimo questo qui e come valore minimo quest'altro ora notiamo che questa quantità qui coincide con questa e allora posso scrivere l'accelerazione in questo modo quello che ho trovato è una espressione dell'accelerazione che dipende dalla posizione e questa qui la incontreremo ancora più avanti quindi quando qualcuno ci dirà che un punto materiale ha una velocità che dipende dalla posizione secondo questa relazione oppure questa o ci dice che la velocità è questa o ci dice che l'equazione oraria è questa allora immediatamente dobbiamo indirizzarci sul moto armonico e adesso passiamo a vedere un applet in geogebra per mettere meglio in evidenza le caratteristiche di questo moto armonico su google ho cercato geogebra harmonic motion e sono apparse un numero elevatissimo di risorse quella che mi è piaciuta di più è questa qui del dottor adrian giannetta il sistema fisico che produce il moto armonico che abbiamo già visto cioè l'oscillatore armonico è rappresentato da questa massa collegata ad una molla a questo sostegno il nostro punto materiale andrà su e giù lungo l'asse x l'asse x in questo esempio è verticale e quindi seguiremo la proiezione di questo punto materiale lungo l'asse x iniziamo con l'animazione ecco notate il vettore posizione che è lungo l'asse x e segue il punto materiale quello verde possiamo già riconoscere alcune proprietà di questo moto l'ampiezza vale 3 lo vediamo anche scritto qui io posso modificarla a piacere ma lasciamo tre quindi il valore massimo dello spostamento è più tre e il valore minimo è meno 3 la fase iniziale fi vale 0 con questo slider posso modificarla a piacere per quanto riguarda omega lo vediamo in alto e vale 2 se omega la frequenza angolare o pulsazione vale 2 significa che il periodo vale pi greco e vediamo infatti che la distanza temporale tra due picchi successivi è proprio 3,14 secondi l'asse t naturalmente l'asse orizzontale ora possiamo apprezzare meglio il ruolo svolto dalla fase iniziale fi ricordo che fi può variare tra 0 e 2 pi greco oppure tra meno pi greco e pi greco è la stessa cosa in questa animazione varia tra meno pi greco e pi greco adesso vale 0 vediamo se aumento che cosa succede vediamo un po come si trasforma questo grafico vedete sembra che il grafico si sposti indietro nel tempo invece se partiamo da 0 e introduco valori negativi della fase si sposta in avanti e questo non dovrebbe meravigliarci se ci ricordiamo che stiamo scrivendo coseno di omega t più fi per cui fi in fondo rappresenta proprio uno spostamento lungo l'asse t per cui se fi è positivo ci stiamo spostando indietro nel tempo e se è negativo invece l'intero grafico sta traslando nella direzione delle t positive se date un'occhiata a quello che succede per t uguale a 0 vedete che la posizione di partenza del punto materiale varia quindi variando fi tra meno pi greco e pi greco io posso stabilire dove si trova il punto materiale a t uguale a 0 per esempio se il punto materiale parte da questa posizione in basso posso mettere 3,14 se parte da questa posizione devo mettere al posto di fi 1,19 ora state attenti per ogni posizione iniziale tra meno 5 e 5 esistono due valori di fi i quali differiscono l'uno dall'altro dal fatto che in una posizione il punto materiale si muove nella direzione delle x positive invece per l'altro valore di fi si muove verso il basso fatemi spiegare meglio che cosa intendo in corrispondenza di questo valore di fi si ha questo grafico per cui per t maggiore di 0 si capisce che il punto materiale sta per muoversi nella direzione dell'asse x ora esiste un altro valore di fi e adesso lo andiamo a prendere per cui il punto materiale si trova ancora nello stesso punto a t uguale 0 e cioè parte dall'origine come partiva prima però fi vale 1,57 cioè pi greco però per t maggiore di 0 il punto materiale comincia a muoversi nella direzione opposta a quella dell'asse x ed ora possiamo analizzare il diagramma velocità tempo e quindi bisogna mettere in corrispondenza la posizione del punto materiale con il valore della velocità che viene mostrato in questo grafico ora su questo grafico non dovete più vedere x ma v proviamo a vedere l'animazione questo vettore v coincide istante per istante con l'ampiezza della velocità quindi osservate come l'ampiezza coincide con la lunghezza di questo vettore questo vettore v in realtà dovreste vederlo attaccato al punto materiale quello che dovete notare che quando il punto materiale si trova a passare per lo 0 il vettore velocità è massimo e può essere diretto verso il basso mentre sta scendendo o verso l'alto mentre sta salendo invece il vettore velocità assume il valore 0 quando il punto materiale si trova agli estremi dell'intervallo e vi ricordate l'ampiezza del moto è di 3 metri quindi quando ci troviamo a meno 3 o a più 3 in quella posizione il vettore velocità vale 0 vediamo se è vero ecco in questa posizione siamo praticamente all'estremità inferiore vedete che la velocità è praticamente 0 adesso proseguiamo con l'animazione adesso siamo nella posizione più in alto e il vettore velocità vale ancora a 0 come facciamo essere sicuri che questa è la posizione più in alto posso mostrarvi anche il grafico della posizione vedete quindi quando x x è la curva verde vale 3 il vettore velocità vale 0 vediamoli un po insieme queste due curve e quindi notiamo che queste due curve sono delle curve sinusoidali o cosinusoidali scegliete quella che vi piace di più ma sono sfasate di pi greco mezzi di 90 gradi e analizziamo il vettore accelerazione questo è l'andamento per confronto mostriamo anche come fatto il vettore posizione e allora vedete questi due vettori il vettore x e il vettore accelerazione sono sempre opposti laddove la posizione assume valori negativi per esempio qui o qui l'accelerazione positiva e viceversa queste cose le rivedremo quando faremo dinamica e parleremo di forze quindi vedremo che associata alla posizione esiste una forza di richiamo che tende a riportare il punto materiale l'oscillatore nella posizione di equilibrio posizione di equilibrio che coincide con x uguale a zero questi due grafici notate sono sfasati invece di pi greco se volessimo portare questo picco in corrispondenza di quest'altro picco noteremmo che c'è uno sfasamento di pi greco ed ora possiamo vedere anche tutte e tre i grafici insieme vi lascio nella descrizione il link a questa bellissima applet in modo tale che voi stessi possiate giocarci e comprendere meglio quello che ho provato a spiegarvi a partire da questo diagramma vediamo che cosa succede se varia lo sfasamento se fi diventa positivo vedete si spostano tutti in blocco verso sinistra e questo lo sapevamo se fi invece diventa negativo si spostano tutti insieme verso destra un punto materiale si muove con legge oraria x di t discuti il moto trova la velocità e l'accelerazione a t uguale 10 secondi trova la velocità e l'accelerazione quando il punto materiale si trova in x uguale 0 10 metri io vedo un numero che moltiplica una funzione seno per numero per t se ci fosse stato t al quadrato non sarebbe stato più un moto armonico più 0 5 quindi questa qui è una equazione di un moto armonico questa quantità qui è l'ampiezza e vale 0 20 metri questo numero che moltiplica t è proprio omega quest'altro numero è proprio fi fi uguale 0.5 radianti il periodo è data da questa relazione e a t uguale a 0 il punto materiale si trova in questa posizione i calcoli non li ho svolti per quanto riguarda la velocità questa è la sua espressione l'abbiamo vista prima vuole la velocità a t uguale 10 secondi inserisco 10 al posto di t e seguo i calcoli per quanto riguarda l'accelerazione ho questa espressione inserisco 10 secondi e il gioco anche in questo caso è fatto per quanto riguarda l'ultima domanda vuole la velocità e l'accelerazione quando il punto materiale si trova in x uguale 0 10 metri vediamo un po come si risolve nel caso dell'accelerazione questo problema si risolve immediatamente perché l'accelerazione sia questa espressione ma abbiamo incontrato anche questa quindi quello che devo fare è inserire qui dentro proprio i 0 10 metri moltiplicare per omega al quadrato e ho trovato la risposta per quanto riguarda la velocità posso ragionare in questo modo questa è l'equazione oraria mi si dice che ad un certo istante chiamiamolo t barrato la posizione vale 0 10 metri e allora in questa equazione oraria appunto inserisco t barrato e al posto di x di t ci metto 0 10 e quindi trovo una equazione in cui l'incognita è solo t barrato trovo t barrato svolgendo questa equazione e la inserisco nell'espressione della velocità è questo modo di procedere ma voglio mostrartene un altro perché ciò mi dà l'occasione di giungere ad un risultato che ci sarà utile più avanti queste due sono le equazioni della posizione della velocità che abbiamo visto prima ora faccio così porto la a a primo membro e porto quest'altra quantità pure a primo membro e quindi scrivo queste due nuove equazioni ora elevo al quadrato entrambi i membri sia della prima che della seconda equazione e giungo a questo nuovo sistema di due equazioni adesso sommo membro a membro e quindi arrivo a questa equazione il motivo per cui a secondo membro trovo uno è dovuto al fatto che ho il coseno al quadrato e il seno al quadrato di uno stesso angolo e chi sa un minimo di trigonometria sa che il coseno al quadrato di un angolo sommato al seno al quadrato dello stesso angolo trova uno non è altro che il teorema di pitagora applicato alla circonferenza angolo metrica ora io mi ritrovo ad avere v e x e tutte le altre quantità sono note quindi posso risolvere questa equazione rispetto a v v al quadrato e questa qui e v e quest'altra per cui inserendo al posto della x il valore che mi viene dato nel testo trovo quanto vale la velocità e velocità in questo caso vedete a due valori un punto materiale si muove di moto armonico semplice con periodo di due secondi trova la sua equazione oraria sapendo che a t uguale a zero si trova 5 centimetri dalla sua posizione di equilibrio e si dirige verso di essa con velocità di 10 centimetri al secondo questa è l'equazione oraria conosciamo il periodo il periodo ci permette di trovare la pulsazione omega che è questa qui quindi una delle tre quantità è stata determinata rimangono ancora da trovare a fi vediamo come si procede in questo caso si impone la condizione a t uguale a zero e quindi a t uguale a zero dall'equazione del moto da questa qui si ricava che questo vale zero quindi rimane fi e al posto di a rimane a ma sempre a t uguale a zero dall'equazione della velocità cioè da questa inserendo t uguale a zero qui dentro si trova questa relazione e al posto di v ci metto la velocità che mi viene data mi viene detto che ha una velocità di 10 centimetri al secondo ma si trovava già in x uguale 5 quindi alla destra dell'origine del punto di equilibrio si muove verso di essa quindi questa velocità è negativa in questa equazione non ho trasformato l'ampiezza in metri quindi i risultati saranno tutti in centimetri come si risolve questo sistema di due equazioni in due incognite a e fi si divide la seconda equazione per la prima equazione quindi si ottiene questa e semplificando si giunge ad una sola equazione in cui l'incognita è fi e fi è l'arco tangente di 2 su omega e se si fanno i conti e non ho smagliato dovrebbe apparire questo risultato una volta trovato fi si può trovare a a partire per esempio da questa relazione e quindi a è 5 diviso coseno di fi cioè 5,9 centimetri un punto si muove lungo l'asse x secondo la legge a se inquadro 3t meno pi greco quarti con costante a positiva determina l'ampiezza e il periodo di oscillazione l'istante in cui il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine a prima vista potrebbe sembrare che a sia la l'ampiezza e la presenza di questo quadrato potrebbe non farci riconoscere la presenza di un moto armonico la prima cosa che bisogna fare in presenza di una formula come questa o simile per chi non ha esperienza è provare immediatamente a rappresentarlo graficamente e siccome ci viene permesso di usare il calcolatore grafico qui non ci viene detto quanto vale a immagine che sia 1 perché la forma funzionale di questa equazione oraria ci viene dato da se inquadro 3t meno pi greco quarti allora ti mostro immediatamente il grafico di questa funzione e questo qui è un moto armonico in cui la posizione di equilibrio è proprio 0 5 questo è il periodo che adesso andremo a determinare se ci ricordiamo che se inquadro alfa è questa espressione sostituendola qui dentro si ottiene che x è questa quantità e quindi abbiamo a mezzi meno a mezzi per coseno di questa fase dovrebbe essere chiaro che il punto di equilibrio è a mezzi e l'ampiezza è a mezzi quindi il punto più in alto che può essere raggiunto è a mezzi più a mezzi quindi a e il punto più basso è a mezzi meno a mezzi cioè 0 quindi è un moto che avviene tra 0 e a ma oscilla attorno a a mezzi quindi la prima risposta è a mezzi per quanto riguarda il periodo il numero che moltiplica t è proprio omega e quindi si scopre che t è pi greco terzi proviamo a fare una verifica grafica di questi calcoli ritorniamo sul grafico pi greco terzi è 3,14 diviso 3 quindi è circa 1 potete leggere facilmente i valori qui per esempio sono a 0 8 qui sono a 1 e 8 1 e 8 meno 0 8 è proprio 1 che stavamo cercando quindi il periodo è un secondo è circa un secondo quel pi greco terzi che abbiamo trovato per quanto riguarda l'istante t in cui il punto raggiunge per la prima volta la massima distanza dall'origine il tempo è questo intervallo l'oscillazione procede prima verso il basso poi sale e questo intervallo si trova facilmente risolvendo la seguente equazione e cioè ponendo per il t barrato che il tempo che stiamo cercando questa quantità deve essere uguale ad a visto che si riposiziona di nuovo nel punto più lontano se si risolve questa equazione si scopre che è t barrato vale pi greco quarti chi ha mancato di risolvere l'equazione goniometrica per risalire a t quarti potrebbe ancora giungere al risultato scoprendo che questo intervallo risulta essere per lo meno in questo grafico tre quarti dell'intero periodo quindi da qui qui è t è proprio tre quarti di t cioè il pi greco quarti che ci interessava ultima considerazione abbiamo già studiato il moto circolare uniforme cioè quello di un punto materiale che si muove lungo una circonferenza con velocità angolare costante e qui abbiamo la nostra circonferenza nel sistema di coordinate all'origine proprio coincidente con il centro di questa circonferenza di raggio r il punto p si muove su questa circonferenza supponiamo in questa direzione in senso anti orario e abbiamo imparato che le equazioni del moto del punto materiale sono queste qui se ora le osserviamo queste equazioni orarie notiamo che ognuna di esse rappresenta un moto armonico quindi la proiezione di p sull'asse x quindi l'ombra di p sull'asse x si muove avanti e indietro di moto armonico e la stessa cosa accade alla proiezione lungo l'asse y l'ampiezza di questo moto naturalmente coincide con il raggio e con questo è tutto se quanto hai visto finora ti è piaciuto e vuoi essere avvisato quando uscirà il prossimo video sul moto armonico composto iscriviti al canale e attiva la notifica alla prossima